Uffa però! Sto in camera sempre in punizione, non è giusto così! Adesso voglio essere io e la mamma e il babbo e il bambino! Tanto lui diventasse un bambino! Vorrei tanto che lui diventasse un bambino! Vorrei tanto che lui diventasse un bambino! Avete sentito questo suono? È venuto dal salotto! Vado a vedere! Babbo! Dimmi Giorgia! Ha visto fuori le mie amiche con l'overboard, me lo compri? No Giorgia! Ancora tu mi chiedi cose? Ti ho detto di no! L'altro giorno con quella medicina lì mi stavi per far morire! Quindi no! Anzi! Ritorna in camera e vai a giocare in camera! Non ti voglio vedere per un po'! Uffa babbo! Sei cattivo! Vai! Che ci fai ancora qui? Uffa! Vai in camera! Uffa però eh! Uffa però! Quando il babbo e io le chiedo delle cose sempre in camera! Uffa! E sono l'unica bambina in tutto in tutto in questo pianeta! Che sto in camera sempre in punizione! Non è giusto così! Adesso voglio essere io e la mamma e il babbo e il bambino! Così l'ho detto anche io! In punizione! Come il babbo fa sempre con me! Vorrei tanto che lui diventasse un bambino! Vorrei tanto che lui diventasse un bambino! Avete sentito questo suono? È venuto dal salotto! Vado a vedere! Cosa c'è mamma? Eh niente niente! Mi sembrava di aver sentito l'umore! Ok! Vieni qua! Vieni che ti prendo! Vieni che ti prendo! Vieni! Vieni! Sì! Il mio desiderio si è avvenuto! Ma avete visto? Il babbo era proprio un bambino! Sì sono felicissima! Farò la mamma per 24 ore! Sì! E lo metterò sempre in punizione come lui fa a me! Salvuccio! Che c'è mamma? Stai giocando? Sì mamma! Ma hai fatto i compiti? No mamma! Lo sai che a me non mi piacciono fare i compiti? Ma vai a fare i compiti subito! Uffa ma quanto perdere mamma! No non voglio andare a fare i compiti perché non mi piace! Guarda! Se non fai i compiti ti metto in camera per una settimana! No! Una settimana no! Vabbè! Però se mi lasci in Nintendo gioco in una settimana in camera! No in Nintendo non te lo lascio! Vai a fare subito i compiti! Uffa! Mamma mia mamma! Vado! Mamma mia mamma non mi riesce a fare questi compiti! Uffa! Voglio andare a giocare! Mamma! Fai subito i compiti! Ok! Ti metto in camera per un anno! Vabbè! Senza Nintendo! No! Allora 4 più 4 quando fa? Fa 5! No! No! Eh aspetta! 4 più 4! 8! Sì 8! 8! Sì già! 8! Ok! Eeeh! Quanto fa 3 più 3? 3 più 3 fa eeeh! 3 più 3 fa 6! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Fa 6! Ok! Ah sono bravo i patomati! L'ha vinto mamma? Devi fare quanto fa 2 più 2? Ah ma è facile questo! 2 più 2 fa eeeh! 4! 4! 1! 5! Adesso fanno una panna piena di delle apri! Oh! Tutta piena? Sì! Oh! Ma così è stata una giornata intera però! Uffì! Va bene! Non mi fa mai giocare ma mi fa sempre fare i compiti a che servono questi compiti? Uffì! Mamma mia! Mi fa male la mano! Mi fa male la mano! Uffì! Mi fa fare sempre queste cose brutte! Uffì! Uffì! Mi fa male il dito! Uffì! Mi fa male la mano! Mamma! C'ho fame! Mamma! C'ho fame! Mamma! C'ho fame! Bello! Arrivo! Ok! Mamma c'ho fame! C'ho fame! C'ho fame! C'ho fame! Oh! Eh! Che posso scegliere io? Sì! Allora io voglio! Eh! L'ho fatto Kinder! No! Fa male la mano! E sembra che devo portare dal dentista perché ti vengono le cari! Sì! Allora no! Le patatine! Neanche! Uffì! Ma non mi dai nulla da mangiare però! Scegli sempre tu le cose! Allora non mi chiedi cosa vuoi da mangiare! Prendi tu e basta! Uffa! Vado! Mi dà sempre le cose schifose! Mi dà sempre le cose schifose! Non mi fa mai mangiare le schifezze! Uffì! Ecco! Ma che schifo mamma! Ma che cos'è? Ma la zucchina! Ma è brutto! Ma va bene! Ma la verdura non mi piace! Ma lo sai che le cose verdi! Mangia! No! Tu non la voglio mamma! Dai! Che schifo! Mangiala! Ti fa fare i denti! Non ti fa venire le taglie! Ma la cacca morbida! Mangia! No mamma! Ma la verdura! Ma poi è cruda! Ma che mi fa mangiare? Ma la zucchina cruda! Che schifo! Sì! Dai! Io voglio un plum cake! Non sai che a me piace plum cake! Staluccio va bene! Ti do un plum cake però solo per questa volta! Yeah! Grazie mamma! Grazie! Grazie mamma! Ti voglio! Però solo per questa volta! Ho capito! Va bene mamma! Ho capito! Tiè! Mi da un plum cake! Mi da un plum cake! Mi da un plum cake! Plum cake! Plum cake! Tieni! Grazie mamma! Ti voglio bene! Grazie! Anche io! Però mi raccomando! Non fai le briciole al solito tu! No! Non ti preoccupare mamma! Non ti preoccupare! Mi mangio anche le briciole io! Ok! Ciao! Uffa! Tocca sempre a me pulire questo briciolume di plum cake! E poi mi ha detto se faceva le briciole se le mangiava! Invece guarda qua! Allora sono pure i pezzi grandi! Però non è giusto che pulisco sempre io eh! In questa parte devo fare sempre tutto io! Non è giusto! Guarda qua! Mamma! Mamma! Vedete! Posso avere un caffè? I miei amici lo bevono tutti! Lo voglio anch'io! Ma sei fatto! Perché? Che è? Il caffè non va bevuto! Ma sono per grandi! Sì! Ma gli amici lo bevono tutti! Dai mamma! Perché magari te ne sono grandi! No! Però hanno tutti quasi la mia stessa età! Dai! Me lo fai bere! Sì! Non te lo faccio bere! È da grandi! Poi la notte se te lo parli non me non dormi! Sì! Ma una mamma cattiva! Brutta! 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 Vado via! Quanto è bello giocare con la Lego! Quanto è bello giocare con... Ora prendi una torre alta così! Vediamo! Vediamo! Mi serve una nuota! No! Mamma! Ma sto giocando con la Lego! Non posso fare mai niente in questa casa! Mi vuoi lasciare perdere? Uffa! Sperdi là! Non si risponde o ti ha la mamma! Non fare il bambino maleducato! Uffa! Uffa! Mi rinfrotto di sempre! Va bene! Non faccio il bambino maleducato! Mi metto al gioco! Posso giocare però adesso? Sì! Però non fare il rumore perché sto lavorando! Va bene! Scusa mamma! Faccio con... Piano piano! Ok! Io vado! Gioco con la Lego! Gioco con la Lego! Gioco con la Lego! Ora faccio una bella costruzione! Ahahahah! Adesso mi faccio uno scherzo alla mamma! Ahahahah! Così! E mi divertirò un pochino! Ahahah! Così! Ahahah! Mamma mamma! Mi sono fatto male un piede! Vieni aiuto mamma! Sì! Aia! 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 Ahahah! La mamma c'è cascata! Aia! Mamma c'è cascata! Sì! 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 Muccio! Ti potevo far male! Così scherzi non si fanno! E quindi per punizione! Guarda che ho già nominato! Lo devi rimettere da solo tutto te! Io non ti metto a postale anche una Lego! E se torno qua e non trovo niente messo a posto! Ti tolgo la paghetta per quattro anni! No! Uffi mamma! Ma sei proprio cattiva! 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 Uffi! Non si risponde così alla mamma! Va bene! Scusa! Ora si schermo! Va bene mamma! Uffi! Si schermo a me questo male! Non proprio lo voglio! Uffa! È una cosa noiosissima fare queste cose! Basta! Non lo voglio fare! Sono stanco! Non lo voglio fare! Uffa! Ma i vostri genitori fanno così con voi! Scrivetelo nei commenti! Non lo voglio fare! Sono stanco! E poi mi devo fare la paghetta per quattro anni! No! Mi tocca sistemare! Uffa! 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 Sono proprio stanca! Perché con salmuccia la vita è troppo difficile! Perché quando mangia fa tutte le briciole e mi tocca pulire a me! Poi quando gioca lascia tutti i giocatori a terra che tocca pulire a me! Poi quando gioca con il Nintendo gli dico Salvuccio hai fatto i compiti? No! Fai i compiti! Non c'ho voglia! E così non è giusto! Perché Salvuccio deve fare i compiti per la scuola! Se non la maestra si arrabbia! E quindi... Basta! E la cosa che odio di più è quando mi fa gli scherzi! Perché quando mi fa gli scherzi è bruttissimo! Perché mi dà noia! Mi faccio male! È bruttissimo! Vorrei che Salvuccio diventasse di nuovo grande! Non pensavo che fare i genitori fosse così pesante! Uffa! Mamma mia! Salvuccio! Diventa grande! Ti prego! Diventa grande! Diventa grande! Diventa grande! Dai diventa grande! Diventa grande! Vado a vedere se il mio design è riserverato! Vediamo! Che c'è mamma? Niente! Niente! Uffa! Mi dai sempre noia! Ti prendo! Ti prendo! Uffa! Il desiderio non si è avverato! Non è che Salvuccio io devo fare la mamma per sempre? Non è che Salvuccio rimarrà tutta la vita in questo modo? Chi lo sopporterà? Solo io! E io non ho voglia! Come faccio a farlo diventare grande? Come faccio? Avete qualche suggerimento? Scrivetelo nei commenti per favore! Ora come faccio? Come faccio? Come faccio? Come faccio? Non voglio fare la mamma per tutta la vita! Come faccio? Come faccio? Come faccio? Ho capito! Se questo video arriverà a 5000 like di sicuro Salvuccio diventerà il mio babbo e non vedo l'ora! Allora ragazzi impegnatevi a dare tanti pollicelli su 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 tanti tanti! E un altro video è terminato! Se vi è piaciuto lasciate un bel like! Iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella degli aggiornamenti! E io come sempre vi saluto con un grande wow!